Mi chiamo Enrico Neggiotti, ho 27 anni, vengo da Livorno e sono un chitarrista cantatore. La mia storia inizia a 13 anni quando scopro la chitarra e me ne innamoro della musica blues e comincio a suonare mattina e sera tutti i giorni e sto incidendo adesso il mio album. Durante la registrazione del mio album era capitata questa canzone che è l'unica canzone del mio album che ho scritto insieme ad un mio amico ed è una canzone fresca, energica e radiofonica e abbiamo pensato che poteva essere la giusta canzone per provare a entrare a Sanremo e così è stato. Sto per fare Sanremo e il mio album uscirà subito dopo Sanremo quindi mi auguro che mi porti fortuna ma soprattutto che piaccia quello che faccio e comprate il mio disco.